insieme possiamo portare 10 milioni di litri di acqua sicura a chi ne ha bisogno oggi nel mondo una persona su tre non può usufruire di fonti di acqua sicura per bere per lavarsi sapete una persona su due ha delle condizioni gravi igienico sanitarie con il rischio di contrarre malattie come il covid 19 tifo o colera che in paesi già poverissimi possono fare più vittime della guerra prima della pandemia la carenza d'acqua uccideva ogni anno circa 830 mila persone che erano costrette a lavarsi e avere con acqua sporca e contaminata e portava 800 bambini sotto i cinque anni di età ad ammalarsi ogni giorno insieme possiamo porre fine a tutto questo donna dolcezza donna acqua noi come possiamo contribuire con un semplice gesto può fare la riferenza fino a natale sarà possibile donare dolcezza e donare acqua acquistiamo nei centri coin online il panettone e su coin.it oppure incontrando i volontari oxfam che ci aiuteranno nell'acquisto del panettone a confezionare i nostri regali di natale in più potete anche fare la semplice donazione sul sito www.oxfam.it.it dona dolcezza e dona acqua grazie di cuore ciao 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 ciao